a lavoro tranquillo dove lavora si si ma anche in che area mollo settimo mollo settimo oggi si va tranquillamente dentro vedo che hanno lasciato a passare nessun problema penso che si rispettano anche loro cosa pensa di questa protesta rispetto le mie rispetto anche buon lavoro buona giornata grazie grazie allora